buongiorno amici e bentrovati ben ritrovati e benvenuti sul mio canale youtube finalmente è arrivata mi è arrivata non so se la conoscete questa ditta si chiama forge taker è della slovenia questo è un contenitore secondo me eccezionale comodissimo hanno diversi prodotti a catalogo ma questa è la tutto in uno quindi quella che cercavo per me sia la sua tracolla si può regolare e sia questi manici che si vanno ad agganciare e tirare così bello di questi prodotti che vengono definiti indistruttibili massicci duri cerniere grossissime anche molto belle molto rifinite come potete vedere hanno il loro logo per tutto si aprono che è una meraviglia io l'ho già riempita e dentro sono termoisolate in dotazione vi viene dato questo contenitore comodissimo io qui li vado a mettere i miei terminali montati e tutto il resto in modo tale che appena arrivo in pesca tiro fuori questo e sono pronto poi altri due contenitori eccoli qua qui ci metto tutto il necessario per innesco bivoua bait floss stopper e tutto il resto comodissimi i cernieri si aprono in un attimo bellissimi grande ai prodotti e infine chicca delle chicche c'è anche questo contenitorino qua questo potete tranquillamente attaccarlo in questa maniera esternamente volendo e all'interno ci sta di tutto come vedete spaziosa tutto è rifinita in questa maniera sembra proprio indistruttibile e dentro come potete vedere c'è spazio veramente tantissime cose in questo modo siete sempre pronti in pesca ci può dire chiudere anche senza sfidarlo io lo metto dentro ma è proprio uno sfizio mio sembra così lo uso anche come piano d'appoggio questo un po' regolare come vi è più comodo potete anche non utilizzarlo metterlo in questa maniera e portarlo via così vi lascio la descrizione le caratteristiche tecniche e il modello nella descrizione del mio canale e secondo me questo è un prodotto eccezionale grazie mille grazie mille per seguirmi vi consiglio comunque di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video e vi saluto ciao 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 ciao